Questo è stato il mio primo per dire lungo, sennò ho fatto sempre corti, ho fatto documentari, ho fatto anche molto montaggio e per dire in questo lavoro sono contento che sono riuscito arrivare a tenere 90 minuti di storia. È stato un lavoro faticoso perché veramente avevamo lavorato per un anno e quattro mesi, siamo partiti con un trattamento di 10 pagine più o meno, ho scritto sceneggiatura, girato, montato, suono e in un anno e quattro mesi è stato veramente un sacrificio e con un team che sono i miei favoriti, la gente che lavora con me veramente si sono impegnati al 100%, lavoravamo quasi 16 ore al giorno. Adesso speriamo, adesso sto preparando un altro film, speriamo l'anno prossimo a febbraio di girarlo, cioè i sogni di tutti. È una delle poche cose del cinema che uno può andare a toccare la bellezza, il quadro ha una sua bellezza, la musica ha una sua bellezza, ma il film è veramente l'insieme di tutte le arti, è quello che io amo fare. Grazie a tutti.